Sarno, Nocero Inferiore e Pagani non sono le città colpite dalla bomba d'acqua che stamattina in un'ora ha causato allagamenti e preoccupazione. Dalle 10.30 di questa mattina la pioggia copiosa si è abbattuta principalmente sulla zona nord dell'agro nocerino sarnese, attivato il COC e sgombero in emergenza con uscita anticipata alla scuola dell'infanzia del plesso di lavorate a Sarno in quanto l'acqua ha iniziato ad infiltrarsi nella scuola. Sul posto immediatamente la protezione civile e i tecnici comunali per capire la gravità della situazione disposta, così l'evacuazione dei piccoli al lavoro incessante e gli operai dell'ufficio manutenzione del comune per individuare se la criticità possa essere legata all'ostruzione di un vicino canale consortile, avviato lo svuotamento delle griglie e delle caditoie insieme agli operai del consorzio, monitorata in città anche la situazione dei sottopassi. COC attivato anche a Nocera Inferiore il sindaco Paolo De Maio ha attivato il centro operativo comunale a Villanova, la situazione più critica, si sono registrati oltre 30 mm di pioggia in pochi minuti, anche qui preoccupazione per la presenza della scuola il cui piazzale si è allagato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, saltati completamente i tombini in tutta la zona, interessata dai problemi legati alla bomba d'acqua, la zona periferica della città, quella a valle più vicina ai corsi d'acqua che ha destato maggiori preoccupazioni. Nel centro cittadino allagata invece in mattinata piazzetta Pagliara. Preoccupazione anche a pagani, disagi per i genitori dei piccoli della scuola Collodi, gli allagamenti di via Filettine con i tombini all'asfalto saltato hanno recato difficoltà all'uscita dalla scuola, criticità poi in via Striano e via Perone. sono venuti giù dei triti in grandi quantità, pietre miste ad acqua che hanno spaventato non poco i residenti e preoccupato l'amministrazione comunale interdetta la viabilità. Inoltre su Traversa Criscuolo dove si sono registrati allagamenti e auto in panne. Nella prima mattinata allagata anche via Tortora e l'incrocio con via Salerno. Per fortuna non ha destato preoccupazione particolare la zona di via Termine Bianco e via Mannara, lungo il corso d'acqua che in autunno aveva fatto temere il peggio per la tracemazione della cavaiola.